Oh, avvocato, ma ti rendi conto? Ti rendi conto che sei in una posizione gravissima? Oh, hai sparato cinque colpi di pistola a tua suocera? Dico cinque colpi, perché? Come perché? Perché dopo la pistola si è inceppata. Erano dodici colpi, erano dodici, a cinque la pistola sparava e non sparava più.